allora questa è la strada che porta alla cunicella alla chiesetta della cunicella ci troviamo alcuni con le marci qui sotto si vede una parte d'altipiano del cucino e qui sopra quello il monte penna aree archeologiche della città angizia queste opere sono state realizzate col contributo del gruppo alpini di cui la marcia anche la cementificazione della strada prima del tragico evento quasi a pronata la montagna in viume in piena fra acqua dei tre di roccia delle vie di segre questo è quello che rimane però proseguendo più avanti adesso percorrendo un tratto a piedi con la bicicletta e qui comincia a vedersi quello che è rimasto vedete tutte pietre roccia alla montagna